Noi siamo qui, nell'emozione che promuovono quando vivi la tecnologia. E nella tua soddisfazione che noi ci siamo. E ci mettiamo tutta l'energia di oltre 400 piozzi per darti la più ampia scelta del video di marchi ai meteoritorezzi. Nasce la più grande catena di elettronica in Italia. Ommunque, sempre e con un cuore grande così. Non ci sono paragoni.